Riunione congiunta domani alle 15 delle commissioni bilancio e territori e servizi del comune di Sulmona per l'esame e l'approvazione di alcune delibere da portare in consiglio comunale probabilmente la prossima settimana. I provvedimenti riguarderanno le scuole e il federalismo demaniare. Innanzitutto si dovrà procedere ad una variazione di bilancio alla luce di un finanziamento di 1.124.000 euro arrivato a Palazzo San Francesco per la messa in sicurezza dell'istituto comprensivo Radice Ovidio. L'avevo anticipato anche ai consiglieri comunali, a tutto il consiglio comunale che saremmo ritornati in consiglio con un ulteriore finanziamento perché è stato pubblicato sulla gazzetta regionale il finanziamento da noi richiesto per quanto riguarda la messa in sicurezza anche della scuola Radice e quindi occorre una variazione di bilancio per l'iscrizione e quindi per l'avvio delle procedure e quindi anche con questo finanziamento riusciamo a completare il quadro della messa in sicurezza delle scuole. Così il primo cittadino Peppino Ranalli nella puntata dello scorso martedì richiedeto dal sindaco sulla nostra emittente che parlando del finanziamento alla Lombardo Radice ha sottolineato il lavoro svolto per consentire l'apertura nel migliore dei modi del nuovo anno scolastico, sempre a proposito di scuole nelle commissioni di domani sarà portata la proposta di delibera per la variante urbanistica che servirà a far partire i lavori del nuovo plesso scolastico che sorgerà nei pressi del palasport di via 25 aprile da adibire a scuola elementare dell'infanzia. Per quanto concerne il federalismo demaniale l'amministrazione comunale dovrà deliberare le acquisizioni della polveriera ex casa Ferrante nella strada provinciale per introdacqua e dell'ex caserma Cesare Battisti. Il sindaco Ranalli ha annunciato che la proposta di destinazione d'uso per l'ex polveriera è quella di trasformarla in un campo di gara per gli allenamenti delle scuderie della giostra cavaleresca, mentre per l'ex caserma Cesare Battisti rimane l'idea della cittadella dei servizi che dovrà rappresentare un polo logistico delle pubbliche amministrazioni. Io chiederò ai capi gruppo e quindi alle commissioni all'intero consiglio comunale di insieme di andare ed individuare la perfetta ricollocazione e quindi il progetto di valorizzazione. Essendo un'opera importante per la città di Sulmona ritengo debba avere la condivisione un po' da parte di tutte quante le forze politiche. All'esame di domani anche la delibera di giunta dello scorso 18 luglio sulla costituzione della centrale unica di committenza in base alle disposizioni di legge che obbligano i comuni non capoluoghi di provincia all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni. A tal proposito Sulmona attuerà una gestione associata con il comune di Pratola Peligna. Un provvedimento che dovrà essere votato dai due consigli comunali e costituirà un ulteriore ufficio presso il comune di Sulmona di questa centrale di committenza che andrà ad elaborare, gestire e porre in essere tutti gli adempimenti di gara previsti dai due comuni.